Parte da Pescara e con due arresti eccellenti la prima inchiesta sugli appalti della ricostruzione all'Aquila. Nell'operazione denominata Ground Zero, su richiesta del PM di Pescara Gennaro Varone accolta dal GIP Luca Deninis, i carabinieri del reparto investigativo del Comando Provinciale di Pescara hanno arrestato Italo Mileti, 59 anni, ex assessore regionale della Giunta Pace e l'amministratore delegato della Fira Servizi Claudio D'Alesio, 50 anni, originario di Teramo ma residente a Pescara. Per entrambi l'accusa è di millantato credito per illecita intermediazione verso pubblici ufficiali, ipotesi contemplata dall'articolo 346 primo comma del codice penale. In sostanza i due avrebbero svolto attività di lobbying con l'intento di trarne profitto per favorire un noto imprenditore pescarese delle costruzioni nella giudicazione di un appalto per la ricostruzione post-sisma. Più in dettaglio l'opera in questione è la realizzazione della nuova sede degli uffici amministrativi della ASL dell'Aquila in località Coppito a seguito della inagibilità del vecchio plesso di Collemaggio, stazione appaltante la ASL dell'Aquila che ha ottenuto una dotazione complessiva di 50 milioni di euro nell'ambito degli interventi post-terremoto per far fronte ai danni strutturali subiti dagli immobili. Nell'ambito di questo plafond oltre 15 milioni di euro erano destinati proprio alla realizzazione della nuova sede amministrativa. Secondo l'accusa dunque Mileti e D'Alesio stavano agendo per pilotare a favore dell'imprenditore pescarese la giudicazione dell'appalto. Gli arresti, oltre che per evitare l'inquinamento delle prove, sono stati necessari dunque proprio per evitare l'aggressione in corso a questi stanziamenti. Ma si tratta solo del primo capitolo, di una inchiesta che promette ulteriori clamorosi sviluppi nei prossimi giorni, hanno fatto intuire gli investigatori. L'azione di lobbying si sarebbe svolta tutta a Pescara, motivo per il quale non si prevede un trasferimento del fascicolo nel capoluogo per competenza territoriale e sarebbe stata avviata dallo scorso mese di luglio. Gli investigatori avrebbero a disposizione un cospicuo materiale probatorio, presumibilmente intercettazioni, a carico dei due indagati che saranno sentiti mercoledì per gli interrogatori di garanzia. Italo Mileti è noto da oltre un decennio negli ambienti politici abruzzesi, colonnello dell'aviazione in congedo tra i fondatori di Forza Italia in Abruzzo, fu assessore comunale a Pescara e regionale alle attività produttive nella giunta di Giovanni Pace. Si candidò in una lista civica di centrodestra anche alle ultime comunali di Pescara. Claudio D'Alesio, imprenditore, fu già componente del Consiglio d'amministrazione della Fira nel 2006, quando scattò il primo scandalo sulla sanità con le cartolarizzazioni di Giancarlo Masciarelli e attualmente amministratore delegato della Fira Servizi, società che venne ancora più coinvolta nello scandalo per la quale si era negli ultimi tempi parlato di rivisitazione del ruolo o di scioglimento. I loro arresti e aria che tira tra investigatori e inquirenti non concludono affatto l'inchiesta, ne costituiscono invece solo il primo capitolo.